Hai capito un po' il Tottenham, hai capito un po', hai capito un po', Murigno nuovo allenatore del Tottenham, esonerato pochettino, pochettino, lo prendevo in giro perché lo prendi in giro ormai da parecchio, quindi è stato cacciato pochettino perché vedete il Tottenham viene da piangere, vedete il Tottenham quindicesimo in classifica, guarda stanotte mi si è immaginato che facevano l'ultima della classe contro il Watford, partita decisiva per pochettino, finiva 3-0 per il Watford, l'ultima in classifica se non mi ci fai il Watford perché a me la Premier League non la seguo però è una bella categoria, è un bel campionato inglese, Mi sono sognato che il Watford vinceva 3-0 col Tottenham e il Tottenham crollava al terzo ultimo posto, insomma Murigno nuovo allenatore del Tottenham, Murigno deve risollevare una situazione, Io all'inizio mi pensavo che era solo uno strascico iniziale, invece la cosa si sta dilungando e pochettino lo hanno cacciato, secondo me è una cosa brutta perché pochettino merita una squadra migliore perché la squadra a me piace, Poi ci sono anche Ken, Son, poi la cosa che a me mi sta più antipatica è che Murigno mi sta antipatica a Murigno perché mi dà sempre quella tensione, Quindi secondo me il Tottenham ha fatto una buona scelta, ha sbagliato a sostituire allenatore al posto a messo Murigno, però secondo me l'esonero di pochettino, tutti se lo stavano scommettendo, secondo me, Perché già vedere il Tottenham laggiù e vedere squadre di neopromosse, a me mi fa proprio pena vedere squadre neopromosse in alto e il Tottenham che sta giù, Guarda, secondo me la classifica della Premier League con tutto il cuore in mano, non ve la dico, perché il Tottenham in Champions League sta facendo bene, Vabbè il girone facile ci sono, poi il Tottenham ha preso 7 pere dal Bayern Monaco in Champions, se non vi ricordate male col Tottenham, 4 gol di Gnabry, se non vi ricordate male, Adesso ha fatto una figuraccia in casa pochettino, la G tifosi del Tottenham lo volevano fuori, perché ha fatto una figuraccia in casa col Bayern Monaco, 7 a 2, 7 a 2, nemmeno 5 a 2, 7, 7, Proprio per dire, i giocatori volevano che Pocettino se ne andava, perché comunque il Tottenham è una buona squadra, quindi non è che stiamo dicendo che è una squadretta, Secondo me da quella partita i tifosi si sanno contro l'allenatore, però che ci devono fare, perché poi Lloris si è fatto pure male, il braccio, quindi stagione Gugu per il campione del mondo, che si è fatto male il 5 ottobre col Brighton, fino ai 3 a 0 per il Brighton, adesso c'hanno un portiere Gazzanica, quindi secondo me il Tottenham si deve svegliare, e io penso che il cambio dell'allenatore già lo volevano da 2-3 mesi, perché la situazione non gira a Wembley, comunque iscrivetevi al canale e attivate la campanella, Matti il biondo su Youtube, ciao!